benvenuti in questo nuovo video su brawl stars oggi faremo un opening box di 6 casse yeah velo iniziamo subito yeah non troverò nessuno perché vi trovo sfiga un povero non c'è nessuno ancora schifo ok un coso bonus bello non c'è niente due cose belle 1620 ok bello una cassa grande non c'è niente yeah allora andate da schifo grazie ciao andate sul l'altro account con la funcione forte il filo unità grado 12 livello e se ciò scopato anche di da panda o genio per mio colto brocco gesso bombardino anche stecca il primo 11 blu l ecco visto che io sette cosci di che c'è c'è il petro coso mito per 5 da 22 io continuo nel faccio è così mi faccio un'altra cassa che bello che viaggio per la città di giappone di pana di pana matata o più bene un colpo gigante come nemico e ha anche la super stupido e odio l'ambito il mio avvio già piazza da 4 per cento e va bene male 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 che schifo 54 per cento e questo video poco solo un'altra partita grosso su un altro cosa di benza che in questa settimana sono cilottanti video sono molto occupato con la scuola io solo dieci anni e sono poffero male 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 17 dai 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 la parla anche vita da sola per non godurla 13 passiamo 8 passiamo 8 passiamo dove sarò io chi la? dove sarò io chi la? non l'ho chiamato io bene quant'è che facciamo? 100 io mi so per 5 va bene e una che passa mi so per dove sono ubito volevo aprire quelle case senza registrare perchè tanto dentro non ci sarebbe niente però volevo avere l'altro supporto siamo di due peni un cult aul sicudkan bel nome qua c'è un neymar neymar oh ti odio no vabbè che orso madonna ma male male c'è l'orso che è una donna sciotta forse è più forte da me c'è l'orso manco l'orso lo possiamo uccidere sapere sapere per le remocia ma eh che la vita niente panda cioè vabbè se era tipo unita panda vabbè 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 un po' che si chiama canale della tv è bellissima la cosa tipo una fagiana prima c'era tipo la mappa che tipo nara fighissima perchè c'erano i trampolini poi adesso c'è anche il nuovo brawler carl c'è la majorità sedia una figa marina adesso giorni che ha fatto paolo per la cavità solo ma non trovo per cento vabbè un scorso una volta di dosa nita sia così se capito così cosa sono fattissima ma che c'è l'orso che fa un bacio di gammio peggio di falena non scusa eh vabbè c'è un'altra catenola così non è brutta baccissima a cento dai stiamo impagando tantissimo di mili 38 ancora un botto di vita ora è meraviglioso bravo dalla vita più la vita che vedete che è belle l'office goddo allora quanto buon fatto il tutto 26 bello manco due casse bello grazie la vita bello il trampoluzzi via ehi tutto che ci siamo pronti n schifo che banno sono felice iii 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 infelicio ciò la vita bella non è vero italo ma va beh è tu perché è tuo toco no 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 please 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 razzista razzista razzistati l'esplice stati 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 sono trovato un buon unico ma l'onorema 2 salva ma bella vita ma non ho portato sotto un'ora paramo o secondi nel punto anche qua, non va bene qua, però non mi va bene no birlo, no burlo è buon bene ma non capivi perché sei barbone quanto goddo, quanto goddo quanto goddo di morire, di morire scusate per l'urlo famiglia ma vabbè, doveva morire dunno, certissima infatti su non parla perché se non ci guarda oh no, 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 no morire morire vi do quattro, vi do quattro, vi do quattro vi do quattro, vi do quattro, vi do quattro non va l'occhio, non va l'occhio ok 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 beh, più tramite di niente, alla fine ho fatto io, non va bene, tali più uno, guarda, più uno, grazie grazie sui traccia di vino, mori male poi non so, forse mercoledì arriverà 1200, perché mi connetto all'account che ho, telefono non sarà più barbone c'è qualcuna che mi guarda io, sono il poveraccio se mi dista no, proprio da tutto il mondo cavolo, cavolo che mori, eh, muore, bello, eh, morire bello morire mi ricordo, morire mi ricordo, morire mi ricordo mi ricordo, morire no, no, no no, 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 scappa, scappa, scappa scappa, scappa, scappa scappa, scappa scappa, scappa non voglio morire, non voglio morire questo buon mi vuole qui là vedete quel buon di asicrano non voglio morire non voglio morire non voglio morire bravo bravo grazie po' ce mi migliora per la vita tantissimo chi sai? ma va bene, eh tira 25 ma vuoi essere a 458 bene e abbiamo una da ragazza allora non due casse apriamo non siamo uno sfigati bene bene questo è un giro per fare molta pratica voi non voglio morire ma vuole grazie